Che cos'è quell'altro? So quell'altro io, no? Eh, tu sei quell'altro, ma bravo. Ma se tu non hai ritrovato... Manco un nome, manco un nome a quell'altro. Manco meriti. Sammi, se tu non hai ritrovato l'interesse che ti era mancato in quarantena... Sai cosa dice l'alchimista? Rosico solo per il fatto, ma qui risponde a Sammi, che ha avuto la possibilità di vederla dal vivo, di averla toccata, solo quello. Sì, ma che c'aveva lui la televisione a casa, poteva andare da prima se gli interessava. Hai capito che ti ha detto? Oh, ma Maria, ma guarda che... Ma tu non te ne... Sammi, a te non te ne frega un c***o di me, ma tu hai capito che una cosa così dell'alchimista cosa hai risposto? Perché poteva scendere lui in tv, ma invece te ti, meno male che l'ho toccata solo io, e la continuo a tocca io. Mi sono rotta le c***e di non avesse risposto da te, e mi sono rotta pure le c***e di cercarle io da te. Non è che mo' ti richiudo il collegamento. Adesso basta veramente. Adesso basta, perché finché tu vuoi prendermi per il c***o, io ti ci faccio giocare, ok, ok, ma quando poi si tratta di veramente... Lo vedi a che serviva il mio percorso? Lo vedi a che serviva il mio percorso? Ah, scusa, ma scrive, cosa ti fa pensare che io non abbia chiesto di venire prima? Appunto. Maria, ma c'è, ma con chi devo parlare? A chi devo rispondere? Fatemi capire, no? Perché comunque non è che nessuno gli ha impedito da andare, mo' non mi interessa, date il numero mio all'alchimista, se vuole ci fanno due ghiacchiere.